Io credo nell'arte, a volte creo immagini dure, ma per me sono tentativi di sopravvivenza. Così Kiki Smith, artista americana di origine tedesca, descrive il suo approccio all'arte, dove il corpo in simbiosi con il mondo è la natura e il fulcro di tutto. Alla fine degli anni 70 inizia la sua carriera, prima distante dal mondo delle gallerie d'arte, e arriva poi ad esporre con artisti come Jean-Michel Basquiat e Kate Ehring. Poi arrivarono i riconoscimenti dell'arte, come la partecipazione alla Biennale Whitney e alla Biennale di Venezia. Oggi le opere della Smith trovano poste all'interno di collezioni pubbliche e private di straordinaria importanza, come la collezione Maramotti, e sono state addirittura esposte al MoMA di New York o ancora agli uffizi di Firenze.